l'eterna lotta fra il bene e il male in italia poi viene vista quasi come una lotta faziosa c'è chi comprerebbe casa a tutti i costi anche tagliandosi un braccio e chi invece se lo taglierebbe pur di non comprarla questo pezzo di educazione finanziaria darà fastidio a molti ma la cosa che voglio dare in questo video è la capacità ad ognuno di voi di valutare nel complesso le due alternative e poi scegliere quella che più gli si addice perché come in tutte le cose non esiste una risposta corretta ma solo la risposta che fa più al caso nostro e poi ti dirò anche la mia personale quella che io ho seguito come modello ma te ne parlo subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati su io risparmi io sono Pasquale il vostro amichevole risparmiatore investitore della porta accanto nonché educatore finanziario IEF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi del quale trovate il link qui sotto in descrizione in italia la casa il suo acquisto è quasi una specie di religione monoteistica è talmente radicata nella nostra cultura che indipendentemente che una persona sia pro o contro l'acquisto quasi tutti a un certo punto si chiedono nel corso della propria vita se acquistarla o meno con molta probabilità molte delle persone che guarderanno questo video sono qui proprio per capire se ne valga la pena oppure no e capisco quanto sia complesso visto che anche io ci sono appunto passato in passato fatto passato al quadrato scegliere di comprare o di rimanere in affitto può determinare molte delle nostre scelte future per cui è una decisione molto importante che va presa con molta ponderazione qui non affronterò il discorso se convenga in funzione dei costi l'una o l'altra se costi meno affittare la casa tutta la vita oppure se sia più conveniente fare il mutuo la questione dei costi a mio parere poco trattabile in maniera seria perché è molto legata al posto al territorio comprare casa a milano o roma a costi completamente diversi che comprarla a siracusa o a crotone senza poi contare il fatto che più si va nel paesino magari disperso e meno queste considerazioni valgono quello su cui invece voglio concentrarmi sono due cose i vantaggi o svantaggi pratici delle due soluzioni e la questione psicologica proprio legata agli aspetti che andrò appunto ad elencare ovviamente qui parlo solo di acquisto per viverci considerazioni diverse e molto più complesse andrebbero fatte per chi invece vuole acquistare e poi mettere al reddito passiamo prima in rassegno i vantaggi delle due soluzioni e poi successivamente agli svantaggi quali sono i vantaggi nell'affittare la maggiore disponibilità economica e mediata il primo perché perché non è necessario nessun investimento corposo perché il massimo della spesa che ci possa venire richiesto sono i depositi cauzionali il primo affitto è la commissione di agenzia se ci rivolgiamo ad essa per quanto la zona possa essere in o situate in una grande città non parliamo mai di centinaia di migliaia di euro la seconda cosa è la possibilità di investire i soldi in altre attività se si ha una liquidità molto cospicua e non si compra si potrebbe ad esempio destinare quei soldi ad altre attività come investimenti azionari obbligazionari e se proprio si vuole investire nel mercato immobiliare se ci si vuole esporre questo mercato ci sono i miei amatissimi rizze 3 non si è legati al posto immaginiamo che ci sia offerto un gran bel posto di lavoro in un altro bel posto d'italia o magari anche all'estero potete partire al volo senza nessun impedimento particolare o legami immobiliari da lasciarvi alle spalle e da dover gestire in seguito però c'è anche i vantaggi dell'acquisto il primo vantaggio è che una volta pagato è di vostra proprietà avete un asset con dei costi sì per cui non è gratis anche se comprato ma comunque si tratta di un immobile che ha un certo valore che magari si è andato a rivalutare nel tempo come molti lo definirebbero qualcosa di duraturo nel tempo il secondo vantaggio è la stabilità per la propria famiglia il focolare domestico sarà sempre quello a meno ovviamente di problematiche inaspettate catastrofiche comunque quella sarà la residenza permanente della vita familiare donando anche un senso di sicurezza non indifferente numero 3 si può modificare il piacimento se esiste un limite per gli immobili in affitto sicuramente è quello di non poter apportare le modifiche che si desiderano anche se queste siano migliorative dell'immobile con la casa acquistata si hanno delle libertà ampissime nel quanto per quanto riguarda la personalizzazione poi la si può dare ai propri redi una volta pagate vostra quando spero fra tantissimi anni sarete lì per lì per abbandonare questo mondo poteste comunque voler lasciare questo immobile al figlio oppure ai nipoti che avranno una base migliore per poter iniziare la propria vita però adesso abbiamo parlato di vantaggi quali potrebbero essere i svantaggi delle due soluzioni e anche in questo caso parliamo e partiamo dall'affitto gli svantaggi dell'affitto principale il primo è che non si ha niente in mano tu paghi l'affitto tutti i mesi per tanti anni ma alla fine non hai niente di tuo in mano un pugno di mosche la libertà di essere mobile e flessibile a un costo che è questo incluso nel prezzo numero 2 si può trovarsi senza casa improvvisamente al proprietario potrebbero girare i zebedei potrebbe servire la casa perché l'ha regalata a un figlio perché a qualche motivo ho un problema strutturale tu ti ritrovi sfrattato e senza casa senza avere un posto definito dove stare nella esigenza di trovare un posto alternativo al più presto numero 3 non tutti i proprietari sono onesti molte volte si può rischiare di andare in tribunale con alcuni proprietari e anche se si è nella ragione ti potresti trovare a dover gestire una serie di problematiche legali o magari solo forti tensioni che si andranno a portare nel tempo che non sono salutari per la nostra psicologia gli svantaggi dell'acquisto il primo è che si riduce la capacità economica avete investito grosse somme magari della propria liquidità comunque vi siete esposti notevolmente con una banca appunto andando ad accedere a un mutuo beh questo può precludere la possibilità di ulteriori investimenti futuri oppure di avere accesso a credito di importo importante nel caso ce ne fosse un'esigenza perché gli imprevisti nella vita possono sempre capitare la seconda cosa è che devi restare dove sei non è una legge ma se si si acquista l'ultima cosa che si vuole fare è spostarsi di volta in volta ricomprando casa ma dove ne venisse l'esigenza ad esempio per un trasferimento dell'azienda o per altri motivi personali non si avrebbe la flessibilità che si avrebbe invece con la casa in affitto numero 3 vendere non vuol dire guadagnare chi acquista immobili abitandoli per un poco la speranza che per poi di andare a rivendere e farci un profitto futuro deve sempre solo essere una persona esperta del settore crisi improvvise pandemie guerre ucraine che non sono successe ovviamente possono creare delle condizioni macroeconomiche e possono far scendere il valore dell'immobile al di sotto anche al prezzo dell'acquisto e che non fa piacere se ci si vuole liberare della casa proprio in quel periodo si tende a pensare spesso nella cultura italiana che sia obbligatorio fare questo passo prima o poi per il famoso tetto sopra la testa ed in questa seconda parte del video voglio proprio accennare questi aspetti psicologici così come negli investimenti il comfort della sicurezza percepita va a propendere verso l'uno l'altra decisione basandosi su delle considerazioni prettamente personali anche se sostanzialmente chi fa un discorso di sicurezza si riferisce sempre all'acquisto non è detto che acquistare possa essere meglio di rimanere in affitto o viceversa in quanto come abbiamo visto entrambe le soluzioni hanno delle problematiche e dei vantaggi scegliere se acquistare una proprietà o rimanere in affitto è una ponderazione totale non solo dagli vantaggi e degli svantaggi ma anche delle cosiddette esigenze personali ma soprattutto di quelle economiche e lavorative e non una scelta obbligata dal pensiero comune per cui non bisogna farsi trainare dal gregge solo perché si tratta di un pensiero comune diffuso io credo che il maggior input debba essere anche se non è detto che questo sia finanziariamente la scelta ottimale quello di optare per l'acquisto quando la speranza il sogno ed il desiderio di avere il proprio tetto di proprietà da sopra la testa da coccolare da costruire sia il nostro motore principale e la nostra forza nel procedere nell'avversità della vita io non comprerò mai casa ma non è detto che non andrei a comprare mai un immobile che è diverso da mettere a reddito nessuno ha il diritto di dirci cosa fare con la nostra vita e con i nostri soldi ma una scelta per quanto desiderio di una vita deve essere fatta sempre con ponderazione e finanziariamente educata finché il nostro desiderio finale appunto quello di acquistare casa e questo famoso sogno più bello non possa trasformarsi invece nell'incubo economico della nostra vita ponderiamo le nostre scelte facciamo le nostre opportune valutazioni però che questo contenuto sia stato di tuo cadimento se così fosse ti chiedo per favore di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube e un commento per farmi sapere cosa ne pensi di questo delicato argomento che accenderà sicuramente gli animi nella sezione dei commenti lasciami anche degli spunti di riflessione da condividere con la community e se poi sei nuovo sul canale ti chiedo per favore di non perderti nel suo video successivo iscrivendoti e cliccando la campanella delle notifiche se poi vuoi prendere con me un appuntamento per una consulenza di educazione finanziaria trovi come sempre il link qui sotto in descrizione ti aspetto per una consulenza ma soprattutto ti aspetto ad un prossimo video ciao 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 Ciao